A cosa stai pensando? Sto pensando che stasera potremmo passare un po' di tempo insieme per il nostro primo appuntamento. Con l'ambasciata tutta per noi. L'ambasciata tutta per noi? E come facciamo? Insomma, c'è la signorina Selina e... Selina passerà la notte fuori e... degli altri me ne occupo io. Non preoccuparti. È sempre che tu voglia, chiaramente. Ma certo. Oh, scusa, scusa, non avrei dovuto farlo, no. No, non mi devi chiedere scusa per nessun motivo al mondo. E men che meno per averlo fatto. È stato bellissimo. Allora, io vado a prepararmi. A dopo, ciao. Allora, io vado a prepararmi. An effetti... Allora, io vado a prepararsi. Abbiamo Regelato Basta auf aspirations Abbiamo 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 Basta Abbiamo B எ Come te pude amare È bellissimo avere l'ambasciata tutta per noi Ho sistemato alcune cose, niente e nessuno ci disturberà Hai cucinato tu? Sì Non sapevo che cucinassi Ci sono molte cose che ancora non sai di me E spero di riuscire a sorprenderti ogni volta Con te ogni cosa è una sorpresa Sto vivendo un sogno, ambasciatore Posso chiederti un favore? Quello che vuoi Chiamami Tomas Sì, lo so, però il fatto è che per me è molto difficile pensare Che tu, che tu e io, che noi, ecco, che noi due siamo Tomas Tomas Non suona molto meglio così? Sì Dammi solo un po' di tempo Devo ancora abituarmi Ma sono certa che la musica, le candele, il cibo e tutto il resto Mi aiuteranno a dirti che sei il pelato del mio cuore Non temere, abbiamo tempo in abbondanza Ho trovato il problema, era... Ninì Angelo Ambesciatore Lupe Orazio Terrificante Tomas Ah 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 yeah